Al centro del suo programma elettorale ha posto anche la situazione ambientale? Sicuramente sì, l'ambiente è inteso come monitoraggio delle acque e dell'aria, delle acque relative ai corsi d'acqua che attraversano la città di Nocera, che spesso sono stati oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, che meritano un'attenzione diversa e più puntuale rispetto al loro stato di salute, che sicuramente non è dei migliori. Monitoraggio dell'aria attese di innumerevoli agenti inquinanti che caratterizzano la città di Nocera Inferiore. Che cosa è in mente per quanto riguarda la Solofrana? La Solofrana innanzitutto bisogna intervenire in maniera concreta per l'individuazione degli agenti inquinanti e cercare di interrompere quegli scarichi che puntualmente inquinano un fiume già particolarmente inquinato. Per corso della salute a Nocera Inferiore ci sono tante zone che possono essere utilizzate come percorso della salute. Tante zone si può sicuramente ampliare il percorso della salute, renderlo fruibile a più cittadini possibili, immagino anche ai cittadini che hanno portatori di handicap. Grazie a tutti.